Il triangolo lariano è la porzione di terra che divide i due rami del lago di Como e grazie alla sua conformazione e suoi panorami è da sempre meta degli amanti delle due ruote a motore e non qui tra il 1921 e il 39 si è corso il circuito dell'Ario e un monumento a Barni lo ricorda poco dopo a Magreglio incontriamo il santuario della Madonna del Ghisallo uno dei punti cardine di ogni itinerario in questo lembo di terra qui si trova un monumento e un piccolo museo dedicato ai ciclisti proprio di fronte una piccola deviazione ci consente di salire al piano arancio dove ovviamente possiamo fermarci a mangiare ritornati sulla provinciale poco più avanti incontriamo il belvedere di Civenna e qui ad essere commemorati sono invece i motociclisti la discesa ci porta nello splendido centro storico di Bellagio con le sue ville tra le quali spicca sicuramente Villa Melzi seguiamo la strada sul ramo comasco fino a Nesso per poi risalire rapidamente verso Asso al pian del Tivano una sosta sul passo a 1124 metri è d'obbligo per ammirare ancora una volta il panorama prima di scendere nella bella strada per Canzo e riprendere così la via della pianura e poi